La Corrida. Anticipazioni puntata 11 maggio 2018.Venerdì 11 maggio 2018 Lo show La Corrida torna in tv con una nuova puntata. . Secondo le anticipazioni, anche stasera il programma di R.A.I.O. 1 dà spazio a 15 nuovi concorrenti. Sono i cosiddetti dilettanti allo sbaraglio giudicati dal pubblico suonante, il quale apprezza, o meno le varie esibizioni proposte. . Esibizioni di volta in volta annunciate dalla balletta Ludovica Caramis, e, quando possibile, messe in musica dal direttore d'orchestra, il maestro Pinuccio Pirazzoli. . Quindi, anche questa settimana si proclama un nuovo vincitore di serata, e c'è spazio per uno scapestrato balletto novità fatto con alcuni dei presenti in studio. . La Corrida 2018. Come seguire la quinta puntata in Stranium.L'inizio della quinta puntata della Corrida 2018 è fissato per le ore 21. . 25 circa di questo venerdì 11 maggio 2018. Anche stasera lo show di R.A.I.O. 1 viene trasmesso in diretta tv dallo studio The R.A.R. 5 di Roma, e si può seguire in live streaming su www. . 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 La Corrida, dopo il passaggio della trasmissione sul piccolo schermo rapido. La Corrida. Puntata venerdì 11 maggio 2018 in diretta live, punto sulla nuova puntata della Corrida di venerdì 11 maggio 2018 ci si può aggiornare anche grazie alla diretta live proposta da Gossip e TV. . Gli aggiornamenti iniziano a partire dalle ore 21 e 15 di questa sera e danno conto di tutte le esilizioni dei nuovi concorrenti chiamati in studio da Carlo Conti. Qui chi ha vinto la serata di venerdì 4 maggio. . A più tardi. .